Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video vediamo come modificare le nostre foto e come togliere dalla foto degli oggetti che non ci piacciono. Nel mio caso a me non piace questo lampione, lo voglio togliere, ma voglio toglierlo senza fare tantissima fatica nel fotoritocco, non sarei neanche in grado. Vediamo come possiamo fare. Allora, io ho questa foto, vado a ingrandirla, quindi vado a zoomare un po', quindi sto tenendo premuto CTRL e zoom, ok, in modo da avere il lampione a una visualizzazione migliore, ok, poi prendo lo strumento lazzo, questo di selezione a mano libera, come si chiama, e vado a selezionare il tutto. Parto da qui, la base per il momento la lascio, faccio tanti clic per disegnare un contorno di questo lampione, cerco di essere il più preciso possibile, adesso non voglio essere eccessivamente pignolo, ma meglio faccio il lavoro e migliore sarà il risultato, anche se devo dire che Gimp fa un grande lavoro poi per conto suo. vado giù fino a qui, vado giù qui, e poi giro attorno al bicchiere più o meno, e vado a chiudere il tutto. Il tutto adesso si è chiuso e ho selezionato l'oggetto che voglio far scomparire. Vado su Filtri, Miglioramento, e poi scelgo questo filtro, Hell Selection. Premo, e ora fa tutto lui. Dovrò dare un OK, vediamo se il mio computer mi chiede, perfetto, devo dire OK, e adesso quel filtro eliminerà il lampione nel miglior modo possibile, considerando che lo fa automaticamente. Poi se sono un po' bravo, magari qualche ritocchino a mano vado a farlo. Vediamo, ecco fatto. Tolgo la selezione, selezione niente, porto la foto a una dimensione normale, e direi che certo si vede qualcosina, qui si vede ancora la base perché non l'abbiamo cancellata, però, ragazzi, direi che è un ottimo risultato. Bene, come riusciamo a fare questo? Grazie a quel filtro, abbiamo visto. Ok, però se adesso tu apri il tuo GIMP, quello che hai scaricato gratuitamente e installato da internet, non ha quei comandi, perché questa cosa, questo filtro particolare, è un plugin, si chiama, una aggiunta, è una programmazione realizzata da programmatori, appunto, che è stata aggiunta a GIMP, aggiungendone una funzionalità. Per cui, per poterlo usare, dobbiamo fare una procedura. Io l'ho già fatta insieme agli amici abbonati, registrando un video di sperimentazione con loro su questo computer, proprio per vedere se riuscivo a farlo andare. E adesso, se ti va, in questo video vediamo i passaggi per ottenere questo risultato. Per cui, vado a chiudere GIMP, non salvo le modifiche, tanto le posso fare in qualsiasi momento, vado a spegnere il mio computer da esperimento, che è questo che stavi vedendo, e adesso farò questa modifica in via definitiva sul mio computer reale. Per cui, appena si spegne questo computer, passiamo su quello reale per poter fare la modifica. Eccomi sul mio computer, apro GIMP sul computer vero, appunto, quello reale, perché ti faccio vedere che quel filtro non è presente, ma avrai provato sicuramente anche tu nel tuo. Quindi, ecco il mio GIMP, ingrandiamo un po' lo schermo prima, per cui tasto destro, impostazioni schermo, 125%, così vediamo meglio le cose. Ok. E vado qui in GIMP, in Filtri, poi vado a scegliere Miglioramento, quel filtro Hell Selection non c'è. Dobbiamo metterlo. Allora, chiudo tutto e vediamo di fare questo lavoro. In definitiva, abbiamo detto, è un plugin che devo installare, che devo caricare nel mio computer per rendere funzionante il tutto. Questo plugin è gratuito, devo andarlo a prendere sul web. Per cui, apro il mio browser internet, raggiungo Google e scrivo il nome di questo plugin, che è questo. scriviamolo bene. Eccolo qua. Questo nome qui, che non pronuncio conoscendo il mio inglese, e ci aggiungiamo anche download. Perfetto. Quindi, questo plugin mi servirà per far funzionare quel filtro che abbiamo visto. Allora, adesso, devo però verificare dove vado a scaricare questo plugin per essere certo di scaricare una cosa che funzioni e non che faccia dei pasticci nel mio computer. Io ho cercato un po' insieme agli amici abbonati nel video di prima e noi abbiamo scelto questo. Vediamo un po'. Eccolo qua. Questo. gimp-portable.com download, eccetera. Quindi, abbiamo scelto questo qui. Per cui, andiamo a premere qui. Rifacciamo questa strada perché sappiamo ormai essere sicura. Arriviamo su questo sito dove ci sono anche tutte quante le istruzioni che servono a mettere in piedi la cosa e noi le abbiamo seguite e le ricorriamo qua. E di fatto abbiamo fatto questo. Premo su download qui. Premo. Vabbè, qui acconsento. E poi premo su download questo download perché potrebbero apparirtene altri perché attorno ci sono pubblicità. Qui vediamo un download, qui ne vediamo un altro, eccetera. Questo download, per cui premo qui e arriva questo file molto velocemente. Chiudo la finestra con la pubblicità e a questo punto ho finito. Posso chiudere il mio browser, vado in Explora File perché adesso devo andare a vedere quello che ho scaricato, vado in download ed eccomi qua. Questo è ciò che ho scaricato. È un file compresso, quindi questo plugin è tutto compresso insieme. Lo decomprimo per poterlo utilizzare. Faccio tasto destro, estrai tutto, premo, dico estrai e adesso ho ottenuto questa cosa. La chiudo. Eccolo qui. Questo è il file compresso che non mi serve più. Lo posso buttare nel cestino. Fatto. Questo è il plugin che mi servirà. Ti faccio notare che è creato in Python, il linguaggio di programmazione che abbiamo visto come utilizzare anche noi tempo fa. Entro dentro qui, vado dentro Win64 oppure Win32 a seconda del computer che hai. Se nel tuo computer c'è dentro Windows a 64 bit vai in Win64. Se nel tuo computer c'è Windows a 32 bit vai in Win32. Io vado in Win64 perché nel mio e perché il mio computer è a 64 bit apro, seleziono quello che c'è dentro, lo copio, torno indietro qui e incollo quello che ho copiato prima in modo che sia insieme. Bene, ora tutti questi file, tutta questa cosa che io sono andato a selezionare la devo posizionare in un luogo specifico del computer, in una cartella particolare del computer dove ho il mio Gimp. Il problema è adesso che questa cartella particolare è in luoghi diversi a seconda del computer che stai utilizzando e a seconda di come hai utilizzato Gimp. Quindi vediamo come ottenere questa cosa. Devo tornare a riaprire Gimp per farmi dire da lui dove devo andare a mettere questi file. Allora, ho aperto Gimp, vado in modifica preferenze Gimp. Eccomi che arrivo ora faccio scorrere tutta questa parte della finestra vado a premere sul più di cartelle si allunga sotto per cui faccio scorrere nuovamente e trovo plug-in perché noi dobbiamo aggiungere un plug-in premo qui e questo è il percorso quindi questa ora mi metto comodo questa è la strada che devo percorrere per poter andare a mettere nel posto giusto quel plug-in che io ho qui quindi vado a prendere il mio esplora file lo tocco qui riesco a toccarlo eccolo qua copio queste cose con copia e ora facciamo un po' di spazio voglio andare qui nella prima delle due righe quindi in quella in alto nel mio caso nel disco C però tu devi andare esattamente in questo percorso anche se sarà ovviamente diverso dal mio va bene qui mi dice vai nel disco C partiamo da qui quindi vado in questo pc poi vado in C il disco C apro poi mi dice vai in users e qui sta per utenti in alcuni computer c'è scritto users all'inglese in questo caso nel mio c'è scritto utenti quindi vado in utenti apro utenti e adesso devo andare in Daniele il mio computer si chiama Daniele quindi entro in Daniele tu avrai un nome diverso lì di solito c'è il nome dell'utente che utilizza il computer apro Daniele nel mio caso adesso devo andare in app data mi guardo attorno e io so già che app data non c'è perché non c'è dovrebbe esserci qua in ordine alfabetico alla A dovrebbe esserci app data quelle col puntino vengono prima ma quando finiscono i puntini alla A dovrebbe esserci app data c'è ma è nascosta quella cartella non la sto vedendo quindi devo chiedere al computer di mostrarmela vado in visualizza e vado ad accendere elementi nascosti al momento sono spenti e quindi non vedo alcune cartelle nascoste lo accendo ecco fatto e ora riguardo il mio elenco e trovo anche app data che è un po' sbiadito se ci farai caso quando lo farai sul tuo computer perché è un elemento nascosto però ora puoi utilizzarlo lo apro ecco qua seguo il percorso devo andare dentro roaming quindi roaming devo andare dentro gimp quindi in ordine alfabetico cerco gimp devo andare dentro 2.10 2.10 devo andare dentro plugins in ordine alfabetico eccolo qua plugins e lo apro la trovo vuota anche qui probabilmente è vuota anche la tua se non hai mai fatto operazioni di questo genere ma non so dirti magari ci trovi dentro già delle cose io vado a fare incolla quindi torno in home e dico incolla così quello che ho copiato prima da download lo posso mettere qua dentro e incollato qua ok nei miei qua vediamo il logo di python perché il mio computer può programmare in python tu magari avrai dei disegni diversi ma non importa non è influente quindi in teoria ho finito proviamolo chiudo tutto quindi ho chiuso esplora file torno in gimp e chiudo anche gimp quindi chiudo con ok questa finestra chiudo gimp devo ripartire da zero perché all'apertura gimp caricherà il filtro quindi adesso anche se era già aperto non poteva farlo vado in ad aprire gimp io dovrei avercelo ce l'ho qua sotto direttamente alle mie spalle sulla barra delle applicazioni apro gimp e aspetto ora gimp si sta aprendo sta caricando i nuovi plugin sta caricando tutto quanto speriamo che abbia trovato anche il nostro mi pare di sì di averlo visto passare come scritta e ora sono pronto ad andare a vedere filtri miglioramento health selection eccolo qua c'è quindi ora il mio computer è in grado di fare quella pulizia proviamo a rifarla vado ad aprire il file in file apri vado in immagini pictures e quell'immagine che abbiamo fatto insieme prima si chiama 10 giugno eccola qua apro e ora aprirò questo file perfetto ci siamo zoom per vedere meglio il contenuto della finestra ok più in grande guardo e meglio riuscirò a seguire i contorni in questo computer il mio lazzo è qua quindi qui tengo premuto posso scegliere eventualmente ad esempio prima c'erano le forbici quando ho guardato prima di iniziare a fare il video poi tenendo premuto qui sono andato su selezione libera e ora faccio la selezione libera voglio provare sì sto sempre sopra il bicchiere perché il bicchiere non lo voglio togliere sto selezionando facendo dei semplici click quindi cerco di posizionarmi al meglio ovviamente si può fare questa cosa anche con altre foto noi adesso stiamo togliendo solo questo lampione ma posso togliere persone posso togliere fiori posso togliere presumibilmente qualsiasi cosa poi magari ci sarà qualcosa che viene meglio e qualcosa che viene meno bene tutto dipende dalla selezione che hai fatto e da ciò che c'è dintorno e quindi il programma che è comunque un procedimento automatico fa del suo meglio filtri miglioramento health selection che ora è attivo perché ho avuto una selezione ho creato una selezione premo attendo che esca la finestrella per dire ok dico ok e ora aspettiamo che il filtro abbia fatto il suo lavoro diamoci ancora qualche istante ecco fatto tolgo la selezione per cui vado su selezione niente e sono posto adesso se zoom all'indietro il mio lampione è stato tolto salvo questa immagine questa volta perché mi piace così quindi salva come 10 giugno ah no la voglio esportare voglio che sia un jpeg quindi esporta come 10 giugno bis la chiamo jpeg quindi aggiungo il bis trattino bis e esporta esporta fatto chiudo tutto e la voglio qui abbandono le modifiche non mi importa chiudo tutto voglio vederla a pieno schermo quindi esplora file immagini 10 giugno bis la troverò qui lampione niente lampione ci clicco sopra due volte ingrandisco tutto ed ecco la mia foto modificata grazie Michele questa foto mi piace molto bene a questo punto se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace ad iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto attivando la campanella in questo modo sarai avvisato all'uscita del prossimo video e ora puoi anche abbonarti al canale youtube di associazione culturale maggiolina e vedere sempre qui su youtube i video della serie speciale riservata agli abbonati dove per esempio abbiamo fatto tutta la sperimentazione per arrivare a questa situazione ci vediamo presto ciao ciao